e quindi da trovare il cavallo giusto, mezzo meccanico in movimento. Descena tre anni, quarta del convegno, allineamento che va a completarsi. Ancora un ottimo allineamento, va via la macchina in velocità. Tost Earn ha le prese con Thunder, l'errore di Twitter, Tost rimane leader, rientra bene Tad Pine e così impiegata punta in avanti l'alivo di Gallucci. Anticipato da Trend, torna lungo i Birilli, 15-2 il lancio, poi si riaffaccia mentre parcheggia Gallucci con il suo Ted Pine. Partito alla grande è Tony Spritz numero 11, ora torna aggressivo Romanelli a chiedere strada con il suo allievo 34, il 400 ma galoppa e quindi l'allievo di Alberico al comando. Viene via Thunder con il buon Palumba e Thunder gradatamente sopravanza l'avversario, 46-1 i 600, Thunder scende ed è nuovo leader. E così l'Ibeccio Griff di Raff Palumba a comandare le operazioni. Si completa la piegata ma anche il mezzo miglio iniziale, in 1-2 e mezzo, sposta Ted Pine, viene via la grande il 10 di turno CAF, però è costretta al traffico, ma punta in avanti il CAF di Gaetano Di Nardo e sospinge Ted Pine sul leader. Primo chilometro in 17,5 sul mio, impiegata, Thunder allunga sotto la minaccia dell'avversario che può anche parcheggiare e riprender fiato. Mezzo miglio alla conclusione, 14-8 addirittura chiacchiericcia la frazione impiegata che mette per il momento Thunder al riparo di insidie e anzi guadagna, guadagna, guadagna molto. Ancora un 14 secchi, fanno 28,8 di fronte da parte di questo Libeccio Griff che per il momento ha molto vantaggio su Ted Pine. Il miglio in 2-1, da 1,15 e mezzo si viaggia e questo Thunder con il training del Caterpillar torna in chiaro vantaggio e domina the situation. Raph Palomba si fa nuovamente notare con una guidata veramente super, poi Ted Pine e poi il 10 di turno CAF, avvicinato dall'11 di Tony Spritz, Thunder come quando vuole, Ted Pine e per il secondo abbiamo detto il terzo è ancora turno CAF, numero 10. 2-31, 1-15 e 7, Thunder, signori quota che borbotta 8-14, un vero numero e Palomba ormai dopo il successo di domenica della Fiorentina e con quella di oggi si consacra in un momento magico di guida. Bravo Raffi, linea allo studio. Grazie a tutti.